Buonasera amici sportivi e appassionati di atletica, ben ritrovati all'appuntamento del martedì sera alle 20, dico sempre, spiccioli fra un telegiornale e l'altro. Siamo a Cuscinetto, la prima parte come sempre è dedicata agli amici dell'Atletica Virtus Ducca, è tornato a trovarci il vicepresidente della Virtus Ducca, Roberto Marietti. Buonasera Roberto, tanto di maglia Virtus, mi hanno brandeggiato, ma io ti ho detto, te Roberto stasera avevi due possibilità, o smoking, o mi venivi in giacca e cravatta, diciamo tipo Guido Casotti, o mi venivi così, che è perfetto, che è perfetto, come andiamo? Diciamo che il morale alle stelle, il tempo passa, inclemente, stiamo invecchiando, ma stiamo invecchiando in maniera giovanile, io perlomeno. Il tempo passa, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, chissà perché le mamme, anche i papà. Senti una cosa, sarebbero tanti gli argomenti di cui dobbiamo parlare, intanto il morale alle stelle, perché diciamo subito, la Virtus, parlano i numeri, io non mi ricordo quant'è che non sei tornato qui a trovarci, numeri strepitosi. Sì, certamente sì, stiamo crescendo in maniera esponenziale, dobbiamo questo alla svolta epocale che fu provocata da Nando Caturelli. Salutiamo il Presidente se ci sta guardando da casa. Sui cuori, certamente, fu lui che è sostenuto anche da me e anche da altri in Consiglio Direttivo, quando decidemmo di investire sui giovani, non sui bambini, sui tecnici giovani. Che poi sono ragazzi vostri. Che poi sono ragazzi che moltissimi sono cresciuti in Virtus, sono ex atleti. Uno per tutti, purtroppo per me, Davide Puccioni, che ha iniziato adesso a fare attività di allenatore del lancio del peso, che purtroppo per me, ripeto, quando aveva 12 anni, era un mio atletino, poi ha fatto 19 metri circa di lancio del peso. Non è che è stata una persona tutto sommato. Adesso fa il lancio del peso. E lui sta portando sua figlia a farsi allenare da me, che ha 14 anni. Io spero di allenare anche i suoi nipoti, ma insomma... Questo conferma il concetto, Roberto, veramente, della Virtus come una grande famiglia. Non è un modo di dire. È perché è così. Lui ha fatto il nome di Davide Puccioni, ma ce ne sono tantissimi. Uno dei tanti. Ex atleti della Virtus, che poi diventano allenatori, che comunque diventeranno dirigenti. E il concetto di grande famiglia, e lo voglio sfruttare sulle prime immagini, Matteo Bedini, quelle del cross... Eccolo qua. Perché, ora, voi avete organizzato un paio di settimane fa questo campionato, la seconda prova del campionato toscano di cross. Ecco, organizzare una cosa del genere, perché un conto sono le gare, diciamo, all'impianto Moreno-Martini. Qui, mi dicevi, è molto più complicato. Certo, un conto è fare una gara, un campionato di lanci, in campo, cioè la pista è già lì, è già segnata. Si mettono i settori, bastano i giudici, bastano i giudici. Due ragazzini che portano indietro i pesi, i bonti e i suonatori, o il dischio e i martelli. Qui si tratta di allestire un campo al di fuori del nostro ambiente. In questo caso, la location è privilegiata, sono gli spalti delle mura davanti all'ex Lucarotti. E qui ci va portato tutto, ci va allestito una segretaria, ci va allestito un impianto fonico. Va fatto il percorso materialmente, ma non c'è soltanto questa che opera puramente di manovalanza, di piantare i picchetti e mettere i nastri. Cioè, dietro tutto è una progettazione, un'organizzazione, nel chi fa cosa, la parte nascosta. Ognuno ha il suo ruolo. Certamente. Mi dici una cosa, quante persone della Virtus sono state coinvolte, mi sembra, da un paio di domeniche fa? Addirittura abbiamo avuto aiuto anche... Anche esterno? Sì, dal gruppo sportivo Antraccoli, il signor Falcioni, mi sembra che si chiami, che è stato veramente gentilissimo, ci ha dato una mano per la logistica, insieme ad altre persone, il giorno della gara. Ma non meno di 50 persone, considerando che noi dirigenti operativi sul campo, sul campo a piantare i picchetti, le avevamo 7-8, molti altri erano a preparare i premi, a fare le iscrizioni, a gestire la segreteria. Tanti compiti diversi da assolvere nell'arco di una mattinata. No, questa poi è una manifestazione che ormai, diciamo, è un po' tradizionale, nel panorama del podismo toscano, e vi viene, diciamo, con costanza assegnata. Sì, ma perché Luca, in questa location che abbiamo trovato, si può dire location, abbiamo individuato questo posto, che fra altre cose è strategico, è vicinissimo al campo Coni, quindi possiamo portare la roba. Ma poi viene costruito, è facile costruire un percorso di andata e ritorno, monte e scendi, che è, fra altre cose, anche dal punto di vista del controllo dei giudici, facilmente seguibile, perché basta piazzare un giudice in cima a quelle lunette triangolari che ci sono davanti, poco avanti, lungo il tracciato, diciamo così. E un giudice di lì riesce a seguire tutto, cioè quella è una cosa... Quindi ha le sue peculiarità tecniche, organizzative e anche per il lavoro dei giudici. È molto bello. Possiamo sfumare queste immagini, perché a proposito di manifestazioni da organizzare, ha avuto un successo, dobbiamo dirlo, perché se no sembra veramente... Successo straordinario, il primo meeting internazionale Città di Luca, è entrato subito nella classifica dei meeting italiani al settimo posto, riconosciuto subito di livello internazionale, tanto che nonostante che sia stato un impegno, me lo confermi, che è andato anche al di là di quello che pensavate, non si poteva non fare la seconda edizione, ricordo domenica 4 giugno. 4 giugno, esattamente. Allora, che dici del meeting? Dico del meeting che non ci aspettavamo... Allora, io presumevo, avevo la sensazione che le nostre capacità... Mi permetti di dire una cosa sull'immagine del triplo, che fu una delle gare più belle e spettacolari, una notizia che sicuramente è molto bella per l'atletica leggera italiana? Il signor Andy Diaz, che vinse con 17,33 e fece solo due salti... Un saltiro la nulla. ...e fece due salti solo perché credo non fosse proprio al meglio della condizione, è diventato di cittadinanza, non so se lo sapevi, italiana. Evviva! E quindi no, saranno... Ma poi so che state preparando, qui adesso vediamo quello che mi dici, una grandissima, ci state provando, una grandissima gara di salto in alto femminile. Certamente, verrà fatta proprio, abbiamo deciso di fare la gara di salto in alto, non nella lunetta, quella più grande, verso, diciamo così, le tagliate, ma in quella che è proprio davanti... Ecco, non dove hanno gareggiato lo scorso anno, proprio sotto la tribuna. Ma sotto la tribuna, questo cosa comporterà? Cioè davanti alla tribuna. Esatto, e qui è visibilissima l'atleta che sta facendo questa gara. Cosa comporterà questo? Che quella è una lunetta quasi da allenamento, quindi comporterà un onere logistico incredibile, cioè dover creare due allungamenti della pedana, sia a destra che a sinistra, chi salta da un verso, chi salta dall'altro, per far sì che sia possibile gareggiare queste persone che sono di altissimo livello. Ma siete motivati? Siete, voglio dire, ci sono ancora più di tre, no, diciamo tre mesi. Eh, ma ci stiamo già pensando. Perché domani è il primo marzo, no, sicuramente vi state già muovendo. Siete motivatissimi, perché diciamo che dopo gli anni in cui non si sapeva neanche se ci sarebbe stato un impianto veramente... Adesso. Pensare adesso, ad avere anche grandi atleti, a fare un meeting del genere, è veramente un sogno che si realizza. In questo possiamo ringraziare il comune di Lucca che ci ha fatto avere questo impianto. L'impegno profuso da Nando e da Sergio e da Matteo Martinelli che hanno scosso tutte le campane possibili e immaginabili per dire questa cosa. Forse nessuno si aspettava, forse nessuno sapeva che a gestire, a frequentare questo impianto c'era una società sportiva attualmente in grado di organizzare manifestazioni di quel livello che portano sicuramente gente a Lucca, voglio dire. In un modo o nell'altro, una certa forma di turismo comunque arriva. Il tempo vuole, avrei voluto farti tante donne. Cosa ti aspetti da questo 2023 per la Virtus? Mi aspetto sicuramente un meeting che abbia un'esplosione... Però sarà un momento centrale della stagione. È un momento centrale, sì, vero o male. Sinceramente mi aspetto grandi risultati a livello giovanile, perché devo dirti con orgoglio che a livello giovanile, grazie all'impronta data da Nando, e noi stiamo rastrellando nei corsi comunali, diciamo così. Chapeau ai ragazzi di Lucca, mi viene in mente Carolina Fraquelli, mi viene in mente Marina Sienesi. Chapeau dobbiamo dirlo, anche se non è di Lucca. Viola Perotti. Anche se non è di Lucca, chapeau a Matteo Liveri, campione italiano assoluto. Sì, ma poi adesso abbiamo trovato una bellissima bimba per il salto con l'asta, specialità che a Lucca noi non abbiamo mai coltivato per mancanza di tecnici. sto cercando di diventare un tecnico anch'io, in qualche maniera, per poterla seguire. Si chiama Agnese Matti, è veramente una ragazza, ha vinto così, presa dal corso comunale, portata a Firenze, ha vinto il campionato toscano subito. Domenica prossima la portiamo a fare la rappresentativa della Toscana in un incontro fra sette e otto regioni a Ancona. Quindi dici c'è una ragazza molto... Ma non c'è tanto lei, in questo corso comunale ci sono tantissimi ragazzi che se te li cerchi li trovi. Verranno fuori, io sono convinto, senza pretendere la luna, però qualcosa, lavorando come lavora la Virtus, qualcosa verrà fuori sicuramente. Ti chiedo al volo, poi dobbiamo chiudere. Cos'è, com'è questo Jacobs in crisi? Il Jacobs in crisi è un ragazzo che bene o male deve fare i conti con quello che è la sua condizione fisica, non mentale ma fisica, di una grande fragilità. Attenzione però... Che avevamo constatato nel lungo. Sì, esattamente. Attenzione poi, il tempo con il quale è stato battuto da quell'outsider su 60 metri... Da Samuele Ceccarelli che di Massa. Sì, fra altre cose, fa bene sperare per la staffetta 4%, ma è un tempo con il quale avrebbe dato 3 metri al migliore Pietro Mennea. E avrebbe dato lo stesso un po' di metri... Sì, però oggi i tempi sono cambiati. Dobbiamo chiudere, Roberto, è stato un piacere averti con noi. Grazie, buon lavoro per tutto quello che fai per la Virtus. Viva la Virtus, questa grande famiglia. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco perché di là ci sono già due amici del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, due atleti master e dunque torniamo tra poco ringraziando Roberto Marietti. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Allora, eccoci tornati per la seconda parte di A Tempo di Atletica, la diciannovesima puntata stagionale. Devo dire che vado a salutare con grande piacere, intanto due atleti master del gruppo sportivo Orecchiella. Con noi sono Roberta Pironi, buonasera Roberta. Buonasera Guido. E Luigi Angeli, buonasera Guido. Dico con particolare piacere perché, me lo confermi Luigi, noi ci si conosce possiamo dire da una vita, no? Da tanto tempo. È così o no? Sì, sì, non un altro sport, ma insomma sì, sì, sì. Non c'è un'altra vita, no? No, 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 per un altro sport, sì, sì, sì. No, no, posso dire, ho conosciuto questi due signori che sono felicemente marito e moglie e tanti anni fa, io ero proprio agli albori, diciamo, della mia esperienza ormai trentennale a Noi TV e Luigi, cioè, seguivate il calcio, avevate una squadra di calcio femminile. Di calcio femminile. Trent'anni fa forse una delle prime anche, no? Sì, e poi quello che avevamo raggiunto, forse la prima, e poi è finito e ci siamo guardati un po' in giro e abbiamo iniziato a correre. E avete cominciato. Dici, ora voglio sentire Roberta, io ho cominciato insieme a Roberta, però quella forte è lei, è così? Sì, 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 sì. È così, lo dici tanto per dire? No, 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 lei è quella forte che vince, io se lei aveva iniziato forse prima, li facevo da me nascere da questo tempo, però ogni frutto ha la sua stagione e va bene così. Roberta, è così, tu sei stata, beh, tempi che facevamo cenno con Luigi del calcio, tu eri una centrocampista dell'allora, insomma, io me lo ricordo ancora come si chiamava quella squadra lì, Mix Bibò, poi dopo ti è diventato Fornaci, beh, forse eri già, avevi un po' già la predisposizione a correre, no? Sicuramente sì, sì, ero portata, ero uno che non mollava mai, correvo tanto, magari tecnicamente era un po' scarsa, però... Però di chilometri immaginati? Tanti, tanti. E ora di chilometri ne immaginati, tanti nell'atletica, come è cominciato? Parecchi. Come è cominciata l'avventura nell'atletica, nel fodismo, diciamo? Per caso, nel senso che ci siamo prefisti di fare una maratona a New York per i nostri 50 anni, l'abbiamo un po' preparata e dopo da lì è nato un po' l'amore. Amici a New York che vanno detto venite qua, però se uno va a New York, non lo so, una volta poteva andare a vedere le due torri gemelle che ora purtroppo non ci sono più, no vabbè, ci sono tantissime cose belle a New York, poi voi l'avete visitata, però in New York è anche il fascino, il richiamo della maratona. Certo, è stata bellissima. Ecco, il problema credo sia poi quello anche di cominciare a prepararla. Che anno era? 2000? 2015 l'abbiamo corsa. 2015 l'abbiamo corsa e abbiamo iniziato due anni prima. No, un anno prima, 2014 e da lì è partito tutto. Che ricordo hai? Ve lo chiedo a tutti e due, prima a Roberto e poi a Luigi, che ricordo avete di quella prima, stata la vostra prima... No, non è stata la prima. No, non è stata la prima. Qual è stata la prima? Lucca. Ah, ecco, qui a Lucca. Lucca, diciamo, è stata la prima. Futura la prima? Durissima. La finisti? Sì, 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 mi sembra che ho messo quattro ore, quindici, però proprio dura, dura, dura. Luice invece è in scioltezza. Devastante, no, arrivo sempre dopo io di lei. No, no, ma a parte quello. No, no, la prima esperienza è stata durissima, poi prima di New York abbiamo fatto anche Milano, un po' meglio, e poi la terza nostra maratona è stata da New York e poi abbiamo continuato fino ad arrivare a 10, tre in Italia con Roma e le altre in Europa. Si dice sempre che è una maratona all'anno, eh? Sì, noi se ne faceva due. Due all'anno sono già... Sì, una in primavera e una in autunno. Che ricordo hai di New York? New York è bella, anche la prima volta che ci vai ti sembra di esserci già stato, lo vedi sempre in tv, è uguale, ma è bella, bella, bella. Mi piace questa cosa di esserci già stato. Sì, 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 sì. In fin dei conti. Sì, sì, proprio, lo vedi in televisione sempre, a me mi ha dato quella sensazione lì. Sì, perché è quasi familiare, anche per via del cinema, no? Sì, sì, sì. È quasi familiare, New York da molti è considerata un po' la capitale del mondo, no? Ma poi la settimana che pregiere la maratona, New York c'è un milione di persone in più, e è bello tutto il clima, è bello, bello, si sta bene, bella esperienza. Te Roberta, di New York, che ricordo hai? Bello, molto, un clima caloroso, ti sembra di correre 42 km e diventa uno stadio. Poi l'autunno a New York, tratto anche dal famoso film, ecco sì, è vero, è vero, è vero. Dei colori spettacolari, bellissimo, bello, è vero, è vero. Noi abbiamo anche delle foto vostre, qui la responsabilità di chi la mandate, però vorrei, ecco, allora, commentiamo questa, questa è Roberta. Questa è Berlino, Maradona di Berlino, questa è la vittoria invece sempre della Roberta, alla Marcia Longa, che è di 26 km, 26 km, sì, nella sua categoria. Qui ha anche vinto, che succede? Questa è New York, no, questa è Amsterdam, mia, mi sa, che è di Amsterdam, sì, sì, questa è Amsterdam. Beh, insomma, se hai impostato mi sembra abbastanza bene. Un po' legnoso, dai. Qui Roberta dove siamo? Qui siamo a Siviglia, dove ha fatto... Se le ricorda tutte, eh? Dove ha fatto il personal best, Parigi, New York, eh, questo è New York, sì, sì, 2015. Personal best che vuol dire, Roberta, quanto hai sulla maratona? 3,22. Beh, insomma, per tempo per... Per essere vecchietta, diciamo. E qui guardate, qui quella prima proprio... Questa è sempre Berlino. Ma non so se hai visto quella prima proprio... Sì, con la lingua fuori. Ci sono. Io quando arrivo... No, se sei arrivato abbastanza fresco. No, ma io arrivo sempre con la lingua fuori. Sì, ma no, ma lo faccio bene così, perché mi va di farlo, capito? Non è che mi pestia male, sto bene. Dobbiamo dire che il gruppo sportivo Orecchiella, di cui fate parte... A proposito, Roberta, come mai il gruppo... Beh, Garfagnana c'è quello, soprattutto, no? Sì, poi... Cioè, siamo proprio una grande famiglia. Sì. Ci troviamo benissimo, proprio che ci hanno accolto. E da quest'anno, come sai, sono entrati anche a far parte di questa trasmissione. Sì, ci hanno accolto benissimo e ci troviamo benissimo. Allora, io devo dire che però ci sono... Voi siete categoria master, naturalmente, però il gruppo sportivo Orecchiella, anche delle ragazzine, tra l'altro, molto giovani. Noi dovremmo avere anche delle foto, ad esempio, di questa Maria Laura Angelini. Sì. Eccola qua. Che a pochi giorni dalla conquista del titolo regionale studentesco con le altre compagne di squadra, di cui poi vedremo anche la foto, ha ottenuto un risultato di rilievo, eccola qua, con le sue compagne di squadra, ai campionati regionali di cross ad Arezzo. Quindi, volevo dire, ci sono, Luigi, anche queste ragazzine che stanno andando bene, no? Sì, io li trovo... Sta crescendo anche sotto questo punto di vista il gruppo sportivo. Sì, io li trovo il martedì e il giovedì sera, quando mi alleno, verso le sei, quando rientro al lavoro, e Luigi Bertoni sta facendo un lavoro egrecio. E niente, poi è aumentato anche il gruppo, perché ho visto che ce ne sono di nuove, sia maschile che femminile, è un buon viatico, via, per il futuro. Sicuramente, Roberto, è un bel risultato, no? Per queste ragazze che, bontà loro, è fortuna loro, cominciano all'età giusta, perché poi, diciamo, anche per fare lo sport a certi livelli bisogna cominciare all'età giusta. Secondo te c'è la possibilità col tempo? Nessuno chiama, nessuno chiede per forza il campione o il grande campione, però che possa venire fuori qualcuno di interessante. Ti puoi sicuramente migliorare, anche alla nostra età, però è più difficile, insomma, invece della ragazzina, se inizi la ragazzina, è un'altra cosa. Certamente. Le altre ragazze, con Maria Laura Angelini, Eran Aurora Ovo Bude, che abbiamo avuto anche nostra ospite qualche tempo fa, e Monia Grassi. E niente, è da ricordare che aveva dato il suo contributo nel titolo studentesco a Prato, anche titolo regionale dei campionati studenti, anche Chiara Musetti. Allora, 2023 cosa facciamo? Comincio da Luigi. Quali sono i progetti? Domenica eravamo a Siena, alla Ultramarathon Terre di Siena, Roberta è arrivata prima di categoria e quarta assoluta. Quindi quanti chilometri hai? 18 erano, era la Gorta, poi c'era la 32 e la 50. Ti hai fatto la 18? Sì. Tu come sei arrivato? 23esimo della mia categoria, qualcosa del genere. Ma adesso nella mia categoria, da 50 in su, sono le peggio categorie perché i master sono terrificanti, fanno di questi tempi. Sono forti. Parliamo di ciclo amatori, questo penso valga anche nell'atletica, nel podismo e così via. E poi dopo aprile andremo a Madrid, a fare la mezza di Madrid e poi torneremo di sicuro a settembre a fare la marcia longa su da Moena a Cavalese, che è 26 chilometri. E poi qualche gara in zona, come si fa sempre la domenica. L'ha detto tutto lui, ma tu Roberta, il calcio... Io corro e basta. No, ti ho detto che faccio il meno. Il calcio lo devi sempre, il calcio. Sì, 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 è abbastanza. Lo sei ancora, sei appassionata ancora. Sì, sì, sì. Quindi ti piagerebbe ancora dare due calci al pallone o... Ma diciamo che ora l'atletica mi piace parecchio. Sì, ti ha proprio preso. Sì, sì. E poi, insomma, ho visto, come ci ha raccontato anche lui, che Luigi, ti sei tolta anche delle belle soddisfazioni. Sì, sì, io sono molto contenta di quello che sto facendo. Via, ma alleno bene. È un cagnaccio. Non mollo. E poi ci si tiene in forma, no? Sì, ci sta bene. Ci si tiene in forma, che va bene, che va bene. Va bene, va bene. Siamo, come vedete, qui mettono il tempo. Il tempo esaurito. È ma come in tutte le cose. Un po' come quando correte, c'è il tempo contro l'arte. Luigi, ti ringrazio molto, è stato un piacere. Grazie a te, Guido. Rivedervi. Grazie, Roberta. Grazie, Guido. Noi torniamo martedì prossimo. Stavo controllando a chi tocca martedì prossimo. Avremo ancora gli amici della Virtus. E toccherà agli amici dell'atletica Pietrasanta Versilia. Che pochi giorni fa hanno ospitato nel loro impianto, tramite anche l'amministrazione comunale, quel Samuele Ceccarelli. Che si è elevato. La soddisfazione di battere niente meno che sua maestà Marcel Jacobs. E nel fine settimana, sabato, attenzione, che i due azzurri, il campione olimpico, il grande Marcel Jacobs, e questo ragazzo di massa, saranno ai campionati europei indoor. Vedremo quello che succederà. Grazie a Luigi e Roberta. Grazie a voi. Grazie a Matteo Bedini di là dal vetro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. A Tempo di Atletica torno martedì prossimo, sempre alle 20. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.